Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra anticipazione non ancora ufficiale per la nuova stagione, per il nuovo anno. Questa è la seconda maglia del Brasile per l'anno 2024-2025 che verrà utilizzata in Copa America, in versione player. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, devo dire veramente molto bella. Questo colore che c'è sul davanti, questo mix di colori, mi piace veramente tanto. Poi la maglia del Brasile secondo me ha sempre un fascino incredibile. Il costo lo vedete qui sopra che per questa maglia è veramente veramente un affare. Se volete ordinare la maglia e avere maggiori dettagli, come al solito vi ricordo che trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché insieme a questa sul sito troverete tantissime altre occasioni che vi attendono. Prima di salutarvi e di lasciarvi alla parte finale. Vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale. Spingete questo benedetto pulsante. Costa poco ma ci aiuta tantissimo. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao!